Le accise sono imposte che gravano sui carburanti, accise che sono state ridotte in parte, ma dal 1 gennaio queste riduzioni sono state abolite causando rincari ai distributori. Qualcuno sostiene che ci siano anche speculazioni, che cosa ne pensa? È vero, c'è una speculazione, perché quando hanno tolto le accise noi eravamo pieni e non ci hanno dato ancora niente. Adesso che le accise ce le hanno rimesse, nei salbatoi ne avevamo nemmeno la metà, dunque è una speculazione che fa o il governo o le società. Qui non ci piove per nessun motivo. Quando pensa che i prezzi dei carburanti si abbasseranno? Questo è un problema dirlo, però io dico che il petrolio sta calando, il metano sta calando, ma i prezzi stanno calando pochissimo sui distributori. Ma io dico solo una cosa, come si fa una stazione come l'Agip, l'Agip Leni, che hanno i prezzi più alti di tutti noi e sono stazioni dello Stato più che parte, sono parastatali. Allora noi cosa dobbiamo fare? A noi gestori ci danno una sciocchezza, non ci stiamo dentro con tutte le spese che abbiamo dentro. Poi se uno è dipendente, tocca chiudere. Con l'aumento dei prezzi registrato una maggiore attenzione agli automobilisti nell'uso della macchina? Guardi, sono due settimane che si lavora circa il 30-40%, pensi quanto abbiamo perso. In alcuni distributori in autostrada la benzina ha toccato livelli molto elevati, come si spiega secondo lei? Queste sono le compagnie che fanno questi prezzi, i gestori non c'entrano niente. Lei che cosa pensa che accadrà in questo paese se nel giro di poco non si troverà una soluzione? Guardi, il governo è stato insediato circa tre mesi, quattro mesi fa. Dobbiamo aspettare almeno un anno prima che questo governo si vede qualcosa. Ci dovremmo adeguare con i nostri prezzi, a quelli che sono i costi. E le persone meno abbienti come faranno? Ci vorrà un sistema sociale che le aiuti. Con le tasse che paghiamo penso che si possa fare questo e d'altro. Cerco di usarla di meno, preferisco magari se devo fare piccoli spostamenti, uso la bici, uso, vado a piedi. La macchina la utilizzo che mi serve, carica qualcosa che ho bisogno per forza della macchina, altrimenti lascio stare. Troppi aumenti, io avevo la macchina a metano e ho fatto il GPL. Oggi l'ho cambiata, con il metano non ci faccio più. Quando pensa che i prezzi si abbasseranno dei carburanti? Ma guardi, io penso che ancora, l'idea che oggi parlavo nel governo, che ancora sarà fra due o tre mesi se poi tutto va bene. Io sto vedendo già da questa settimana molto molto più calmo, perché non so, calcolo la crisi o quello che è, caro benzina, ma la gente viaggia molto molto calmo, molto meno. Come vede il futuro del nostro paese? Malissimo. Qui se non entra qualcosa andremo in una crisi molto brutta, secondo me, perché qui troppo aumenti e il costo della vita è aumentato tre volte di più. Si parla di accise, il tema del giorno, che cosa ne pensa? Ma guardi, ne pensa che lo Stato, come ha detto ieri anche la Meloni, hanno riaggiunto per aiutare anche questo 30 centesimi in più e per risalare altre cose, ma comunque il gatto che morde la coda ha aumentato più quello per aiutare, ma dopo la gente gira di meno in un altro senso. Grazie. 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 Grazie.